il cross morbido a cercare il colpo di testa di piccoli anticipato da rodriguez poi pasalic in aria dentro per piccoli piccoli di nuovo avanti l'atalanta a due dalla fine dopo questa giocata di pasalic da terra servire l'assist per roberto piccoli sapata il cross teso pasalic controlla pasalic un altro gol dell'ex per mario pasalic ilicic in palleggio buono il suggerimento e in mezzo ancora per ilicic che non sbaglia il vantaggio atalanta dopo dieci minuti pasalic che finta il tiro appoggia per ilicic che liberissimo sul palo opposto deve soltanto spingerla in porta zapata vede pasalic corridoio centrale lo percorre l'ottantotto pasalic in mezzo verrà zapata che fa 4 a 1 il gol del poker va a ringraziare mario pasalic per il secondo assist di giornata pasalic può ripartire veloce l'atalanta attenzione a malinoski il sinistro di malinoski che la piazza importa all'undicesimo del secondo tempo ruslan malinoski malinoski dentro ancora sapata pallone allargato verso zappa costa che calcia in diagonale pasalic e gol dell'atalanta dopo sei minuti il secondo gol in campionato di mario pasalic va zappa costa il cross dentro pasalic come nella scorsa stagione a colpire lo spezia mario pasalic zappa costa che mette in mezzo palla che sfila arriva mario pasalic palla profonda può andare duvan duello fisico è passato sapata che può andare verso la porta c'è pasalic cercato pasalic anche stavolta doppietta di mario pasalic muriel va a puntare ancora muriel palla di ritorno pasalic in area alza la testa muriel entra e segna luis muriel secondo gol in campionato per muriel con miners ilicic tunnel in mezzo per l'1 a 0 di pasalic al settimo minuto l'invenzione di ilicic e pasalic porta in vantaggio la dea pasalic muriel dal limite ancora pasalic per il raddoppio mario pasalic al dodicesimo e già doppietta per il croato muriel posizione regolare del colombiano va da solo muriel in dribbling dentro da pasalic e tripletta per mario pasalic al sessantasettesimo mette il punto esclamativo il numero 88 adesso pezzella sguardo in mezzo cross deviazione colpo di testa 1 a 0 atalanta con il centravanti occulto mario pasalic fruller che guarda in mezzo parte il traversone colpo di testa e rete di pasalic al sesto minuto di gioco l'atalanta è già in vantaggio il gol di pasalic a sbloccare il punteggio copmainers pasalic ci sei prende la mira e porta avanti la dea mustafa cisse assist numero 6 per mario pasalic muriel insiste sterza va sul destro muriel fino in fondo cross deviato traversa e poi pasalic avanti l'atalanta pasalic al quarantaquattresimo il gol dell'1 a 0 muriel dentro pasalic c'è il corridoio buono per pasalic che controlla e con il sinistro fredda milinkovic savic undicesimo gol in campionato per mario pasalic alla sua centocinquantesima in serie a team palla tagliata dentro per posale in area di rigore libero al destro ha pareggiato l'atalanta con mario pasalic sono 12 i gol in campionato zappacosta dietro per muriel che controlla muriel non calcia pasalic pasalic l'atalanta fa 3 a 1 con mario pasalic tredicesimo in campionato per il capo cannoniere dell'atalanta mario pasalic un Heaven Chi che che che